Roman Abramovich ha perso la sua causa legale per annullare le sanzioni imposte dall'Unione Europea. L'ex proprietario del Chelsea aveva intentato una causa presso la Corte di Giustizia dell'Unione contro il Consiglio dell'Unione Europea che l'anno scorso aveva imposto sanzioni alla Russia e agli stretti alleati del presidente Vladimir Putin. L'oligarca è uno dei principali azionisti di uno dei maggiori gruppi siderurgici e minerari russi. Roman Arkadeyevich Abramovich contro il Consiglio dell'Unione Europea, il Tribunale declara e arrête premièrement il recorso e il regete, deuxièmement, Roman Arkadeyevich Abramovich supporterà ses propres dépensas a ceux que ceux exposés par le Consiglio dell'Unione Europea. Abramovich può ancora fare appello. Per quanto riguarda l'ex presidente ucraino Viktor Yanukovych e suo figlio Oleksandr, le sanzioni dell'Unione sono state revocate. La Corte ha concluso che il Consiglio europeo ha commesso un errore di valutazione.